M-Auto è un autosalone specializzato nella vendita di automobili usate e nuove, multimarca, che offre un'ampia gamma di servizi dedicati a chi vuole vendere o acquistare la propria autovettura. M-Auto si pone come nuovo punto di riferimento a Gualdo Taglino, infatti il titolare Emanuele Muscoloni, grande appassionato di automobili, ha intrapreso questo percorso con serietà e passione con lo scopo di interpretare al meglio le esigenze di un'ampia clientela come quelle del mercato dell'auto. M-Auto, autosalone, auto nuove usate in chilometri zero aziendali più rimarche, vi aspetta a Gualdo Taglino in via della stazione, telefono 075-9169-85, cellulare 335-5255-073 e in via Flaminia al chilometro 186 in zona industriale sud Gualdo Taglino-Perugia, telefono 075-9108-245, cellulare 333-916-306. Amici carissimi dell'Umbria Verdi Giada, salve a tutti, mi trovo nel bellissimo comune di Gualdo Taglino e sono nella sede storica di M-Auto di Muscoloni Emanuele. Una bellissima realtà nata nel 2010, imprenditori giovani che vogliono sempre intraprendere questo mondo di automobili. In mia compagnia ho l'addetto vendite Massimo Bellucci. Parleremo oggi con Massimo della nuova Suzuki Ignis 1.2 Hybrid. Buonasera a tutti, nel nostro salone potrete trovare tutte le novità per quanto riguardano le vetture ibride, vetture che in questo momento stanno segnando un cambiamento significativo nel settore delle automobili. Nello specifico Suzuki Ignis, un piccolo SUV da città, adatto anche nell'allestimento quattro ruote motrici per affrontare qualsiasi tipo di terreno e di situazione. La vettura è allestita in due allestimenti principali, cool e top, motorizzazioni benzina, esclusivamente benzina o ibrida, quindi benzina ed elettrico, 1.290 cavalli. Massimo, perché scegliere un'automobile ibrida? Scegliere un'automobile ibrida perché, come dicevo poco fa, il momento di cambiamento per quanto riguarda il settore delle automobili che si sta indirizzando per un discorso di emissioni, per un discorso di inquinamento, di efficienza e di risparmio per quanto riguarda i consumi, si sta indirizzando sempre più a un passaggio epocale verso quello che è un cambiamento, quindi alla motorizzazione elettrica. Nel frattempo si sta sviluppando quello che è una sorta di via di mezzo, quindi la motorizzazione ibrida, che permette di contenere i consumi e di contenere quelle che sono le emissioni. Benissimo, noi ringraziamo Massimo Bellucci, vi ricordo addetto alle vendite nel reparto storico dell'autosalone di M-Auto di Moscoloni Emanuele, vi ricordo che M-Auto di Moscoloni Emanuele, autosalone nuovo e usato plurimarche, lo trovate in via della stazione a Gualdo Tadino, telefono 075 91 69 85 oppure in via Flaminial km 186, sempre a Gualdo Tadino. telefono 075 91 08 245, M-Auto la potete trovare sia su Facebook che su Instagram. Tutto aggiornato al minuto, anzi al secondo, venite a trovare M-Auto di Moscoloni Emanuele.